Bella ragazzi, sono Cipi de Best Player e oggi sono tornato qui su Pate F4 con altre due nuove sfide ringrazio intanto Matte99Lel che sarebbe TomTom che ha commentato lo scorso video e ci ha suggerito quindi di distruggere un aereo oppure una H6G Little Bird con l'SR AV che è questo lancia razzi quello che si può manovrare il colpo e in più un altro obiettivo che avremo oggi sarà quello di riuscire ad uccidere un nemico guidando un qualsiasi veicolo una Jeep o un Quad però prima di avere l'impatto con il nemico bisogna scendere da questo veicolo quindi spero che abbiate capito partiamo subito siamo su trasmissione pirata e iniziamo col Quad Boom Sì e questa era la trappola di GP de Best Player prova a salire amico prova a salire che ti ti faccio diventare polvere cenere mamma mia abbattuto abbattuto come l'ho abbattuto vai no non è possibile cioè lui mi ha distrutto col Jabba e dove è andato il mio quad polverizzato suppongo siamo entrati in una nuova partita signori perché quella di prima è finita adesso dobbiamo sempre fare un'incisione con questo mezzo che non so va dove vuole lui va dove vuole lui non ne ha preso neanche uno no riprendilo via no non è sceso non è sceso l'ho preso sotto ma non è sceso porca miseria non è sceso lo metto sei mio sei mio sei mio sei mio vai lascialo non l'ho preso oh di due centimetri non l'ho preso come ha fatto oh no non è sceso non è sceso non è possibile devi scendere dal veicolo rimane fermo lì e via si parte con la nostra bellissima moto sembra provare a investire qualcuno ci riusciremo no questa è la risposta no vai no la sfiga che sfiga no si è spostato no è un nemico è un nemico non l'ho visto tra le rocce comunque per il video che vi sia piaciuto mi sorto da lasciare un mi piace un commento con scritto altre sfide da fare nei prossimi video anche se dovrò rifare sempre questa qua della jeep la porterò avanti perché alla fine devo farla e quindi questo è uno degli obiettivi scrivete quindi nei commenti altre idee altre sfide uccisione con aerei quelle là proprio che ci metteranno un'eternità un'eternità e quindi video su video iscrivetevi per non perdere i miei prossimi video noi ci vediamo con un prossimo video bella to be the best player